il dolore è tanto inimmaginabile atroce una parte di me che se ne va aveva solo 22 anni una vita davanti spezzata senza un motivo logico posso capire una malattia un incidente ma questo è il modo più inconcepibile non te ne fai una ragione ma devo essere forte per gli altri ragazzi elena e davide devono dobbiamo ripartire erano tre fratelli unitissimi sono le parole che gino cecchettino papà di giulia uccisa coltellate affida al quotidiano la repubblica amore mio mi manchi già tantissimo abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia è il messaggio di addio pieno di dolore e commozione che papà gino ha voluto dedicare a giulia cecchettino oggi un messaggio con una foto di giulia sorridente ma preceduto da un altro messaggio rivolto a chi orribilmente ha tolto la vita alla figlia l'ex fidanzato filippo turetta oggi arrestato in germania l'amore vero non umilia non delude non calpessa non tradisce e non ferisce il cuore l'amore vero non urla non picchia non uccide o a o o o o o o o o o Grazie a tutti.